Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare il quarto volume di una serie sui castelli, 35 castelli imperdibili del Veneto, di Elena Percivaldi e Mario Galloni, pubblicato dall'edizione Il Capricorno quest'anno, 160 pagine, 13 euro, quindi una spesa assolutamente invitante. E noi abbiamo il piacere di avere con noi l'amica Elena Percivaldi che è una dei due autori di questo interessante libro sui castelli del Veneto. Buongiorno, ciao Maurizio. A te subito la parola. Sì, grazie. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti e grazie come sempre Italia Medievale a te per l'invito a partecipare insomma alle presentazioni dei libri che ormai stanno diventando sempre più serrate e sono molto contenta di questo perché c'è effettivamente, pare almeno, un bel interesse anche sul discorso dei castelli. Infatti questo testo, come dicevi tu giustamente, e lo mostro, è un libro che arriva insomma come quarto titolo di questa serie che è cominciata oramai due anni fa, si può dire, sui castelli, proprio 35 castelli imperdibili e poi dedicati alla regione in questione, che esce per la collana altri turismi delle edizioni del Capricorno che è una casa editrice di Torino specializzata in anche turismo culturale, ma turismo non nel senso soltanto delle cose da vedere ma anche di approfondimento, quindi un turismo diciamo basato molto sul territorio ma anche sulle curiosità, sugli aspetti inediti, sugli aspetti culturali che sono una delle cose importanti insomma anche per la valorizzazione giustamente di quella che è la nostra eredità culturale. Quindi questo testo arriva a quarto di una serie che ha visto finora l'uscita come primo volume era esordita due anni fa ormai, nel 2019 con i Castelli della Lombardia, che è questo poi credo che aveva ancora una veste grafica leggermente diversa, poi dopo è stata corretta nel corso d'opera ma probabilmente avrà anche, se si spera, una ristampa, una sistemazione anche in questo senso poi è uscito nel 2020, quindi in pieno lockdown, il testo sui Castelli della Toscana poi quello sempre in pieno lockdown sui Castelli dell'Emilia Romagna e infine adesso quest'anno due titoli, sono in programma, uno è questo, quello del Veneto appunto che è appena uscito e poi credo settimana prossima, se non ho capito male dall'editore dovrebbe essere il 15, quindi alla fine di questa settimana in realtà, dovrebbe uscire il quinto titolo che è sui Castelli del Friuli Venezia Giulia. Quindi diciamo che sta cominciando a strutturarsi un progetto che era partito prima un po' a livello di test con il titolo sulla Lombardia poi dato il gradimento, dato l'interesse suscitato, si è proceduto insomma a coprire pian piano le varie regioni dell'Italia settentrionale e adesso il programma è quello di ovviamente terminare andando avanti insomma con le varie regioni e sbarcare anche verso l'Italia centrale in particolar modo, poi chissà magari un giorno anche l'Italia del mezzogiorno e quindi è un progetto questo che stiamo curando, che sto curando con l'edizione del Capricorno che ha lo scopo proprio di andare a raccontare il territorio e mostrarne le bellezze, le attrattive ma anche spingere insomma così alla riflessione su determinati momenti ecco storici in particolar modo il Medioevo che evidentemente parlando di Castelli è l'apoteosi però anche sfatando come sempre un pochino nel mio stile svariati luoghi comuni che spesso e volentieri troviamo sia applicati al Medioevo che applicati anche al discorso dei Castelli perché insomma forse gioverà a ripeterlo anche se so che soprattutto gli ascoltatori che seguono insomma Italia Medievale hanno avuto modo anche di partecipare tante volte a degli eventi fatti da grandi specialisti di Castelli che tu stesso Maurizio hai organizzato anche a Milano dedicato proprio all'approfondimento di queste tematiche i Castelli non sono insomma il castello come ce lo immaginiamo il castello sforzesco cioè il castello strutturato, grande, a forma di quadrilatero, con le torri, con il ponte elevatoio non necessariamente, questa è un'immagine del castello che si struttura nel Tardo Medioevo e non da tutte le parti tra l'altro nello stesso modo anche se poi è quello che forse insomma per una serie di ragioni anche di fascino insomma di bellezza, di imponenza si è poi strutturato e si è inserito insomma così nell'immaginario collettivo fino a diventare il prototipo del castello nell'immaginario in realtà i castelli sono una forma architettonica, un insediamento perché questo poi era che cambia, è soggetto a mutamenti molto importanti nel corso della storia a partire dall'esordio che potremmo considerare tra Tardo Antico e Alto Medioevo e strutturandosi poi successivamente in base anche a quelle che sono le esigenze di difesa sicuramente e di insediamento di un dato territorio ma anche poi come simbolo di potere di dinastie e di casate che pian piano vanno radicandosi sul territorio quindi sono storie complesse quelle dei castelli non sono soltanto una storia di un maniero o di un edificio pure semplice che vedi lì e che magari puoi visitare e trovare bello interessante anche perché magari contiene delle interessanti manifestazioni artistiche non so degli affreschi, delle sculture o delle testimonianze storiche ma proprio perché sono, possiamo dire, dei punti di riferimento attraverso i quali si può leggere, ricostruire e ripercorrere la storia di un territorio che evidentemente può essere più o meno vasto e una storia che può essere anche più o meno accidentata perché non da tutte le parti evidentemente gli eventi e i personaggi sono gli stessi e hanno la stessa importanza quindi quello che viene fuori da queste singole guide che hanno per motivi, possiamo dire, logistici scusate, logistici e strutturali, organizzativi un impianto, un imprinting di carattere territoriale, quindi regionale in realtà sono storie di casate, di territori più ampi questi volumi hanno un impianto, diciamo, una struttura dal punto di vista logistico, di carattere territoriale di carattere regionale appunto si tratta soltanto di un escamotage e di una scelta che è dettata da pure ragioni di comodità perché in realtà, insomma, quando noi parliamo di Medioevo di regioni, di storia dobbiamo pensare che all'epoca non c'erano ovviamente le regioni come le intendiamo noi oggi può sembrare una banalità ma va sempre tenuto presente quindi quando si racconta un territorio come per esempio quello del Veneto oppure quello del Friuli Venezia Giulia oppure quello della Lombardia è soggetto evidentemente nel corso del tempo a mutazioni, mutamenti di confini e cambiamenti, insomma, più ampi o più stretti a seconda e quindi chiaramente si tratta di una storia che gioco forza a scollina verso altre regioni quindi quello divertente e bello di questi lavori che poi possono essere acquistati e letti sia come storia di quella determinata regione di quel determinato territorio ma poi presi magari in fila o diciamo interfacciati uno con l'altro messi in correlazione anche con territori confinanti viene fuori una storia evidentemente più complessa come se fossero delle tessere di un mosaico molto interessante, molto shang-shang diciamo anche molto così attraente e attrattivo detto questo, sì, nello specifico parlando del territorio del Veneto stiamo parlando della regione storica del Veneto e della regione anche amministrativa quindi è una storia questa molto complessa che parte nel caso dei castelli anche in questo caso come già nella Lombardia diciamo tra Tardo Antico e Alto Medioevo quando cominciano a crearsi questi presidi militari nelle zone di occupazione già preesistenti e spesso e volentieri strategiche sul piano logistico perché si trattava di castelli di forti, di castra insomma di punti di avvistamento di insediamenti spesso di carattere militare posti a presidio delle grandi vie di comunicazione che evidentemente sia in Lombardia che in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia ovviamente erano numerose e importanti insomma sin dall'antichità e quindi insomma strategiche cruciali sia per i traffici commerciali che per gli scambi che anche per una questione di carattere meramente militare e chiaramente quindi il Veneto vede nascere i suoi primi castelli così come la Lombardia anche sia come funzione insomma di controllo del territorio militare anche come barriere doganali spesso ma anche come appunto presidio contro il pericolo delle invasioni barbariche quindi siamo evidentemente nel periodo tra Tardo Antico e Alto Medioevo in cui l'impero ovviamente comincia a questa lunga fase di crisi a interfacciarsi evidentemente anche con pericoli che provengono dall'esterno e quindi i presidi territoriali i presidi a controllo proprio anche militare del territorio iniziano a sbocciare, a fiorire insomma a crescere e a diventare via via sempre più importanti lungo evidentemente le grandi vie di comunicazione partendo da lì quindi vediamo questi presidi militari ne leggiamo proprio la storia nell'evoluzione poi l'altra grande tappa intorno al 1000 insomma con l'altra diciamo l'altro grande pericolo delle invasioni da parte delle incursioni in questo caso degli Ungari e in mezzo evidentemente strutture che pian piano cambiano che si strutturano appunto in maniera anche più complessa passando da semplici punti di avvistamento da castra diciamo torri magari poco strutturate con poche murature con qualche struttura qua e là magari appunto la torre e poco altro a dei veri e propri presidi territoriali strutturati magari anche con edifici quindi come hanno mostrato insomma anche gli scavi archeologici che sono stati fatti in questa zona specie ad esempio da Brogiolo ecco che è uno dei grandi scavatori ecco di castelli ecco che dire poi che sì certo sono strutture quindi che cambiano nel corso del tempo e che pian piano con il consolidamento anche di questi presidi anche del ruolo che questi presidi militari hanno sul territorio diventano anche luoghi di insediamento di comunità ma anche di insediamento territoriale e i centri di potere di dinastie che pian piano iniziano appunto anche a inuclearsi come importanti punti di riferimento del territorio quindi per esempio nel Veneto abbiamo non so gli scaligeri ad esempio i da Camino i da Romano i Carraresi insomma storie dinastie personaggi che evidentemente vivono informano creano ecco anche con le loro vicende personali poi appunto la storia del territorio al di là di quella che è la curiosità poi legata alle singole figure quindi possiamo dire ecco che ripeto è una storia è un viaggio ecco che noi proponiamo ecco attraverso questo patrimonio culturale e architettonico territoriale che può essere fatto secondo me con un po' da tutti ecco ovviamente si tratta di libri di ampia divulgazione quindi non sono dei trattati ecco specialistici diciamo così sui castelli ma si tratta di racconti possiamo dire sì perché è la prosa anche insomma lo stile che abbiamo scelto di utilizzare per questi per questi testi è anche abbastanza vincente insomma racconta ecco descrive sicuramente e però racconta e vuole anche appassionare vuole svelare magari qualche aspetto anche inedito delle singole delle singole realtà castrensi una cosa diciamo tecnica 35 adesso poi questo numero mi si chiede mi chiedono sempre quando faccio la presentazione dei libri se ha un significato cabalistico esoterico chi lo sa no in realtà si tratta di un numero che insomma aveva pensato l'editore per motivi che restano misteriosi legati probabilmente alla sua così visione personale e non nascondo che spesso e volentieri è stato anche difficile riuscire a così rispettarlo no ecco se vogliamo perché chiaramente quando tu devi indagare il territorio non che non ce ne siano di castelli ce ne sono tantissimi ma il problema è che molti di questi in Lombardia come in Veneto come in Friuli o sono dimore private e quindi non visitabili non aperte al pubblico oppure sono magari anche ridotti allo stato di rudere no quindi di fatto sì è bello però c'è poco magari hanno una ricca storia da raccontare ma a livello poi di di visita insomma si riduce a poco quindi ecco anche la qua la sfida è stata quella di di cercare di trovare anche dei castelli tra l'altro non sempre almeno nel caso della Lombardia quelli più eclatanti quelli più così diciamo alla portata di tutti più noti ma magari anche qualche luogo un pochino meno noto ma altrettanto se non a volte di più affascinante proprio perché anche questo aspetto un po' misterioso di essere meno noto e quindi intrigante da essere riscoperto noi parliamo quando parliamo di castelli ovviamente parliamo di strutture castrenzi nel senso di legate spesso e volentieri al Medioevo quindi i grandi castelli che abbiamo trattato sono evidentemente nel caso del Veneto quello per esempio di Malcesine non so i castelli di Verona c'è Castelvecchio Castel San Pietro la Rocca Scarigera di Arsignano adesso leggo qua scorro con voi il sommario c'è il castello di Montorio Veronese c'è il castello ovviamente i castelli di Marostica c'è il castello di Alboino di Feltre cosiddetto castello di Alboino di Feltre c'è il castello di Zumelle Castel Brando il castello di Conegliano insomma la Rocca di Tempesta dei Tempesta di Noale il castello Caravese di Padova insomma tanti tanti bei castelli medievali ecco però ci sono anche per scelta nostra anche dei luoghi che sono sempre fortificazioni magari hanno anche una origine diciamo così medievale ma poi hanno subito delle trasformazioni anche cospicue nel corso del tempo e sono diventati magari importanti e oggi sono conservati secondo un aspetto decisamente moderno e uno soprattutto nel caso del Friuli Venezia Giulia che uscirà a breve abbiamo incluso ad esempio alcune fortificazioni della Grande Guerra chiaro che sono sorte queste fortificazioni spesso e volentieri in luoghi già appunto abitati in precedenza e dove c'erano magari delle strutture castrense di carattere medievale però di queste magari si apprezza poco oggi perché la struttura è quella invece di un castello tra virgolette quindi una fortificazione invece di carattere militare legata al primo conflitto mondiale magari anche precedentemente perché alcuni di questi erano già stati rifortificati nell'ottocento insomma sono luoghi ricchi di storie di trasformazioni nel caso qui del Veneto invece abbiamo voluto inserire anche un castello stranissimo un po' sui generis che è il covolo del buttistone che è molto molto carino perché si tratta di un luogo che è un castello per modo di dire potremmo definirlo un castello senza castello nel senso che è un castello scavato all'interno della roccia quindi è un castello in negativo le strutture non sono visibili ma sono all'interno di una una sorta di cavità diciamo di carattere ipogeo ecco all'interno appunto della montagna quindi è interessante per la sua tipologia strutturale molto 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 originale il covolo di buttistone è quindi un così un luogo ecco che non è un castello come ce lo immaginiamo un castello decisamente inconsueto però nato appunto con una popum di carattere militare e appunto poi possiamo dire un esito tutto suo e tutto originale particolare e poi che dire ci sono sì abbiamo deciso appunto a livello di fortificazioni invece legate alla grande guerra e ho pensato insomma di inserire il forte tre sassi di Cortina d'Ampezzo perché questo non ha diciamo una storia medievale in passato è una costruzione diciamo ottocentesca novecentesca nata appunto con motivi destinazioni di carattere strategico e militare e però ha una storia molto particolare interessante insomma che ci riporta comunque ad uno dei grandi capisaldi oltre a quello del medioevo del rinascimento del territorio del Veneto poi ovviamente anche del friù di Venezia Giuria che è quello del primo conflitto mondiale insomma che lì ha lasciato amplissime tracce anche nella memoria collettiva nel ricordo insomma nella storia e nell'identità proprio dei luoghi quindi abbiamo provato ecco a affrontare il problema più che castelli direi fortificazioni e declinate appunto nelle sue varie tipologie nel territorio proprio per dare l'idea anche di una storia complessa ricca strutturata e che può trovare appunto un interesse sia da parte dei appassionati del medioevo in senso stretto ma anche in generale degli appassionati di storia perché no anche degli appassionati devo dire di escursionismo perché alcuni di questi itinerari non quelli evidentemente cittadini ma per esempio covolo di buttistone o anche lo stesso appunto forte dei tre sassi di cortina sono in o in quota o in luoghi diciamo raggiungibili anche con percorsi di trekking quindi hanno comunque una come posso dire una attrattiva anche di carattere escursionistico ecco quindi leghiamo anche una riscoperta che comunque è legata a un territorio che viene visto e fruito non soltanto diciamo negli aspetti comodi ma anche quelli in cui te li devi un pochino andare a cercare devi anche muoverti un attimo devi camminare devi apprezzare in maniera slow in maniera lenta quello che è poi il significato ecco e la bellezza perché molte cose poi magari al turista anche rapido e comodo tra virgolette sfuggono proprio perché sono fugaci vengono prese per quello che è guardila fresco bello e poi passi oltre invece qui ci devi arrivare quindi devi meditare sul posto nel momento in cui lo raggiungi pensando cosa vai a vedere quando sei lì hai tutta una dimensione differente anche nell'approccio che hai nei confronti di quello che stai vedendo sei stimolato secondo me anche a fruirlo e a percepirlo in maniera differente e questo varrà poi anche soprattutto per molti dei luoghi che abbiamo scelto nel friuli Venezia Giulia sono legati proprio anche a magari camminate nei ruderi a momenti di distruzione di ricostruzione che quindi implicano anche un ripensamento del territorio del proprio ruolo della necessità di confrontarsi anche nel caso del friuli Venezia Giulia con eventi catastrofici come il grande terremoto nel 1976 che evidentemente ha di fatto distrutto moltissimo parte del friuli e anche queste strutture castrense ne hanno sentito parecchio quindi poi lì c'è aperto il grande problema del cosa fare dopo cioè di ricostruirli di lasciarli come erano allo stato di rudere e come anche poi ricostruirli quindi come erano dove erano pensiamo anche noi abbiamo trattato poi anticipo in questo testo anche non dei castelli in senso stretto ma delle città fortificate come Venzone ad esempio che fu praticamente rasa al suolo a cominciare dal Duomo che è stato uno dei simboli della distruzione insieme a Gemona del terremoto ormai non sono brava in matematica ma più di 40 anni fa quasi 50 aiuto 45 e quindi insomma una situazione dilaniante ecco che poi ha implicato anche un ripensamento di se stessi io credo io amo molto friuli lo sai insomma Maurizio ci vado spesso per lavoro nel ricostruire queste vicende proprio sembrava anche di di vedere quello che erano le ferite che queste comunità avevano subite avevano dovuto poi interfacciare i morti sicuramente ma anche lo sgrettolamento dei propri punti di riferimento nel paesaggio cioè di luoghi che erano millenari erano i da sempre in un modo o nell'altro facevano parte del sangue della carne di questa gente vederlo proprio ricostruito ripensato rimesso in sesto e poi vederlo rinascere secondo me è stato deve essere stato un momento terribile e sublime nello stesso nello stesso tempo insomma non so come dire per me è molto emozionante parlare di questa cosa perché lo sento proprio e quindi scusate in Veneto non è successa la stessa cosa per fortuna la storia è stata di distruzioni ma più che altro di carattere militare ma anche in questo caso molti di questi manieri di questi castelli sono stati poi ricostruiti hanno subito insomma delle vicissitudini che rispecchiano evidentemente la storia complessa del territorio sia il Veneto che il Friuli hanno comunque vissuto da vicino la appunto l'occupazione di Venezia e quindi anche una ridestinazione di molti di questi castelli che erano nati con scopi di carattere eminentemente militare quindi presidi territoriali luoghi fortificati con tutto quello che ne conseguiva e diventando poi pian piano luoghi di residenza di aristocratici di dinastie quindi ricambiando anche pelle come dei serpenti che fanno la metamorfosi che cambiano la pelle diventano ad un certo punto tra quattro fine quattrocento e cinquecento seicento e settecento delle dimore alle ville venete ecco abbiamo incluso all'interno dei castelli questo è uno che vedete qua in copertina che di fatto non hanno magari quell'aspetto ecco che uno si aspetterebbe di pensare come castello appunto il classico castello che dicevamo all'inizio è più una villa perché è comunque un castello che ha subito nel corso del territorio una trasformazione del tempo una trasformazione senso di signorile appunto di dimora poi patrizia ecco sentite un bel temporale che arriva ecco sì credo che sia saltata anche una parte della corrente e pazienza no dicevo quindi che ecco il bello di raccontare questi 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 castelli è proprio il fatto di poter ancora una volta confermare sul territorio un ventaglio di possibilità diverse una ricchezza straordinaria nella storia ma anche proprio nella declinazione di carattere architettonico cioè proprio tipologie differenti senza contare che poi esistono ovviamente delle perle straordinarie cicli di affreschi fatti anche da artisti importanti molti di questi castelli sono anche sedi di museo insomma quindi raccontano proprio il territorio anche dall'interno un'ultima cosa che vorrei dire riguarda i ringraziamenti che mi sento veramente di fare in questo caso in maniera particolarmente accorata perché come dicevo questo testo è nato in un periodo che è quello del lockdown terribile e di conseguenza con l'impossibilità quasi totale di poter rivedere fisicamente da parte nostra i luoghi quindi abbiamo dovuto per scrivere il testo basarci su molta della documentazione che avevamo già evidentemente e molta altra che abbiamo dovuto cercare e trovare appunto utilizzando gli archivi e via dicendo e anche la collaborazione di molti di questi castelli di chi oggi li tiene e li rende fruibili le associazioni culturali del territorio che ci hanno aiutato moltissimo anche nel reperimento della parte iconografica perché il testo è interamente illustrato e di conseguenza ha anche un impegno importante da questo punto di vista quindi desidero veramente ringraziare tantissimo tutti quelli che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione di questo volume e anche i rievocatori che ha fatto la rievocazione storica che fa eventi importanti come non so il palio di il partito a scacchi di Marostica per dire o le Valterrezzeline insomma un panorama ricchissimo quello del Veneto da questo punto di vista molte di queste associazioni hanno collaborato inviandoci proprio le immagini anche degli eventi che loro facevano quindi abbiamo ritenuto giusto e doveroso doverli inserire e approfondire con dei box appositi anche queste cose che sono comunque una testimonianza importante sia della dedizione delle persone sul territorio per il loro territorio ma anche un modo importante per valorizzare il bene stesso il castello il borgo e aiutare nella riscoperta della storia Elena non posso far altro che ringraziarti dire semplicemente che chi quest'estate decidesse di trascorrere le ferie in Veneto non può non portarsi dietro il tuo libro 35 castelli imperdibili del Veneto perché oltre ad essere un elenco di castelli è una vera e propria guida alla conoscenza e alla visita con le informazioni utili con tutte le notizie necessarie per poter viaggiare attraverso la storia del Veneto e dei suoi castelli anche se appunto il Veneto è quasi sempre noto per le ville in realtà ha un patrimonio castellare grandissimo e ne vale davvero la pena io quindi non faccio altro che ricordare il titolo 35 castelli imperdibili del Veneto di Elena Percivaldi e Mario Galloni pubblicato dalle edizioni del Capricorno da poco 160 pagine 13 euro quindi qualcosa che vale assolutamente la pena di acquistare anche dal punto di vista del portafoglio e ti ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito e averci raccontato di questa pubblicazione grazie Elena grazie a voi grazie a te Maurizio ciao a tutti grazie a te